Parliamo ancora di due ruote, questa volta però due ruote con motore e in versione moto da cross per la precisione. Si tratta di Tacita perché il campione mondiale di motocross ha parlato molto bene, lui ha corso a Zoller con la Tacita e vediamo cosa dice in questo prossimo servizio. Una moto elettrica che si guida proprio come una moto da cross. E questo il commento del belga Joel Smets dopo aver guidato in gara la Tacita T-Race C-Cross all'EMX Race of Champions di Zoller lo scorso 21 aprile in Belgio. Parlando con Pierpaolo Rigo, presidente e fondatore di Tacita, Smets, 5 volte campione del mondo di motocross, ha dichiarato Negli ultimi due anni ho seguito l'evoluzione delle moto elettriche abbastanza da vicino. Con Tacita, per la prima volta, ho avuto l'impressione di guidare una vera dirt bike e non una mountain bike truccata. Nel dopogara, il pilota Diego Pederiva ha affermato Andare in finale all'EMX Race of Champions in sfida 1 contro 1 con un 5 volte campione del mondo come Joel Smets già per me è stata un'emozione. Vincerla poi, dopo una manche fatta di sorpassi e sportellate con arrivo al photo finish davanti a un pubblico incredibile, è stato il massimo. E con le moto elettriche, sottolinea Pederiva, l'incitamento del pubblico si sente tutto. Ora ci fermiamo, qualche secondo di pubblicità, noi tra poco ritorniamo con Electric Motor News, puntata numero 16 dell'anno 2015, l'unico programma televisivo italiano dedicato esclusivamente alla mobilità alternativa ecologica. A tra poco.